Hey, ben ritrovati all'AndreLink91 su Captain Tsubasa Rise of New Champions, continuiamo il viaggio con l'episodio New Hero. La scorsa volta mi sono fermato dopo la partita contro il Meiwa e è andata piuttosto bene insomma. La squadra sta crescendo bene, il mio giocatore sta crescendo bene e per chi si fosse perso gli altri episodi ho scelto la Furano perché vorrei provare squadre diverse piuttosto che passare subito alla Toku e fare il centrocampista o attaccante perché no? Però effettivamente un attaccante servirebbe di più alle altre squadre piuttosto che alla Toku perché la Toku è già forte in attacco con Yuga però... Ah, però oggi basta con l'allenamento. Abbiamo il pomeriggio libero? Sì, persino il mister è andato a cercare un souvenir per sua moglie. Un souvenir? Perché dove stiamo? Non siamo ancora in Giappone con le fasi eliminatorie? Allora andiamo da qualche parte a divertirci? Posso portare il pallone? Fissato come Tsubasa? Eh, vabbè, direi di sì. Sei davvero innamorato del calcio, eh? Mi fai tornare in mente quando all'elementare andavo fino al supermercato dando calcio al pallone. È un buon modo per restare in allenamento, effettivamente. Non è che è del tutto falso far vedere i bambini che calciano di continuo il pallone anche per il tragitto da casa a scuola. Si fa. Andare a divertirsi con la palla comunque è un po' esagerato, eh? Certo, non come Tsubasa che ci si fa il bagno, però. Evento, aumento di grado. Quindi fare questi eventi aumenta, ci fa aumentare il grado? Però oggi ho osservato abbastanza, sarà meglio rientrare e parlarne con gli altri. Nakayama, o cosa è Nakayama? Yamanaka. Ah, sei tu. Link, giusto? Nell'ultima partita hai proprio dato spettacolo. Sei andato ad allenarti? No. Studiavo il nemico, ovviamente. È un allenamento comunque. L'arma segreta dell'Automo è una storia da difesa basata sull'analisi dei nostri avversari. Le informazioni sono una risorsa inestimabile. Beh, ora devo tornare al dormitorio. Ci vediamo, Link. Ah, punti gioco guadagnati. 50. Vabbè, ci sta. Quindi, prossima partita contro l'Automo. Perché contro l'Anawa? Prima di avanzare vorrei un attimino vedere a lei nel giocatore, perché effettivamente posso assegnare i punti. Allora, difesa, ok. Questa 60. Ah, però aspetta. Andiamogli un attimino un po', ecco. Attacco, ok. Tecnica, tutto il resto. Perfetto. Applicare, sì. Ho assegnato al mio giocatore anche alcuni oggetti per aumentare l'affinità, per aumentare i punti ricevuti a fine partita. Ovviamente queste cose si possono prendere comprandole con i punti gioco, nello shop del gioco. Oggi, i punti del gioco, non soldi reali. Quindi, ok. Però penso che si possono usare anche soldi reali. Non ho controllato, a dire il vero. E, boh, vediamo un po' come va. Finalmente ci incontriamo, Matsuyama. Abbiamo sentito parlare di tele elementari, ma questa è la prima volta che ci vediamo. È vero. Voi siete i famosi gemelli da Chibana dell'Anawa, giusto? La Furana avrà anche un ottimo gioco di squadra, ma noi siamo i dominatori del cielo. Nemmeno voi riuscirete a raggiungerci lassù. E perché dovremmo farlo? Mi basterà fermare i vostri tiri. Noni? Volevo vedere come farai. Ce lo facciamo vedere, tranquillo. Anzi, no. Noi glielo faremo vedere, perché noi non arriveranno mai in porta. Ah, ah. Voglio vedere. Scusa, Matsuyama, non avrei dovuto abbassarmi al loro livello. Non c'è problema. E poi hai ragione. Sarà inutile qualsiasi acrobazia se riusciamo a metterci fra la palla e la porta. Anche se personalmente preferirei non dare loro la possibilità di tirare. Non ti preoccupare, non ci sarà. Riuscirò a fare un gol con Memedesimo? Non importa quanto sia forte un giocatore. Il calcio è un gioco di combinazione. E la vostra combinazione è inarrestabile? Ok. Non voglio andarci troppo pesante, dai. Volevo fare... Mi ripetete chi siete? Ma secondo me hanno... Qualsiasi cosa tu rispondi... Alcuni NPC hanno già un testo predefinito. Qualsiasi cosa tu dica. Però ecco... Preferirei evitare di scoprirlo, perché magari dopo l'affinità con loro non è... Proprio eccellente. Pronti? Vai. Dove sono? Eccomi. Allora. Va bene. Subito, eh. Eh vabbè, sì. Me l'aspettavo comunque. Cos? Cos? Eccolo qua, eh. Riproviamoci, Link. Certo che vedere un giocatore così grosso che fare i giochetti. Vai. High speed shoot. Vabbè, ovviamente para senza problemi, perché... È ovvio. Oh, ahiù. Come l'hai evitato? Non lo so. Ok. Va bene. Ma perché ha quei due puntini come occhio? Certo che però proprio che per alcuni personaggi non ci si è sprecato, eh. Mamma mia. L'autore, alcuni personaggi li ha curati bene, ma altri proprio. A parte che vabbè, a quel tempo lo stile era particolare, eh. Lo stile di disegno una volta era quello. Era difficile trovarne uno. E se ce l'avevi, evitavi di... Cioè, e se ce l'avevi, lo usavi. No, evitavi. Lo usavi. Vai. Tiro dell'aquila. Bravo, cortile, bravo. Ah, però, eh. Yoshikure. Ok, lo abbiamo par... Perfetto. Cavoli, pensavo che andasse dentro. L'avevo già vista dentro. Ma perché non riesco mai a intercettare la palla in quella maniera? Ma no, così! Ecco, va bene. Ok. Ecco, a posto. Uh! Uh! Ah, se riuscissi a fare gol, ragazzi. Aumenterei di molto la mia... Ah, no, volevo crossare, ma quando ho visto che stavo caricando il tiro, ho detto... Aspetta, fermati. Lascia perdere. Eccolo! Uh! Eh, vai! Bello! Grande, così, il gol. A parte che potrei spostare il mio giocatore in centro campo o in attacco, però, no, sono difensore, preferisco stare in difesa e aumentare più facilmente quella statistica, insomma, la mia posizione. Nooo! Nooo! Ma dai! Ma ti... Che pozzino proprio, guarda. Ti devono scannare. Ti piace con questi contrasti coci? Eh? Eccolo! Perfetto! Vai, vai, vai! Accidenti! Ah! Ok. Oh! Oh! Perfetto! E per chi era quella? Perché non si è girato il maledetto? Eh, vabbè, sì. Non lo so, ragazzi, non mi si è girato e quindi la palla è andata dove gli pareva. Ma sul serio? Su, serio? Vabbè, non mi esprimo. Ma... Te pozzino! Ok. Eh! Ah ah ah! Ah! Guarda, ormai ho capito i tempi e io lo lascio. Però niente, non... Non gli frega niente al gioco, anche se il lascio. Ma gli ne frega niente, proprio. Io lascio, no? Già stavo in scivolata, quindi deve per forza far male. Vabbè. Se la metti in questa maniera, io lascio prima, lascio. Boom. Ok, rango S le mie statistiche, ottimo. Bello! Il tiro dell'Aquila, essendo un tiro lungo, come appunto ho detto la scorsa volta, posso tirarlo anche da centrocampo. È un po' come il drive shoot. Dovrebbe essere un tiro lungo come il drive shoot, eh. Porca di quella porca! Sapevo io. Andava a finire in questa maniera. Sì, però ragazzi, cioè, ma perché non c'è mai nessuno sulle fasce? Non è normale. Vai. Bene, vabbè. Tutto calcolato. Tutto calcolato. Più che altro volevo provare. Effettivamente il gioco non gliene frega niente. Devi essere tu a dirigere la palla. Se no, proprio se ne batte altamente gli zebedei. Vai, va. Prendi palla, Tato. Va bene. Perfetto. Almeno possiamo, ecco, avanzare subito. Ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. Non ce l'ha. Con chi sto? Ah, con Oda. Ok, Matsuyama. Non so come ha fatto in quella maniera, eh. Proprio l'ha evitato al pelo. Eh, sì. Eh, sì. Eh, sì. Eh, sì. Eh, sì. Eh, sì. Ok. Eh, ti, ti re. Ma guardalo! Ma ti pare normale che sto cercando? Mezz'ora sono stato lì a cercare di dribblarlo o niente. Maledetto! Ma guarda che certe volte dovrebbe ti fa... E devo dire, ma che c***o combinate? Ma è normale? Guarda che ti fa incazzare sta cosa, eh. Allora, sto coso è scarico, no? Sarebbe un buon momento per fare gol. E ti pareva che c'era quello in difesa? Eh, questo è gol. Perfetto, vai. Allora, almeno possiamo segnare. 2 a 0. Oddio, in teoria con tutti quanti sti passaggi, sti gol soprattutto, un S più non ce lo toglie nessuno. Statistiche squadra B. Ok, la squadra, ok. Perfetta. Non mi dispiace. Però Link, se potessi arrivare a un rango A con il tiro? Magari? Ok. Vai. Ma ancora B. Ok, vabbè, non è facile fare gol, comunque sia quando il portiere è a carico. Ok. 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 Ma perché se n'è andato Link? Maledizione, raga. Vabbè. Non mi devo arrabbiare? Dite. Non mi devo arrabbiare? Come faccio a non arrabbiarmi quando vedo ste cose? Dai, 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 dai. Vai in porta, va. Gol! 3 a 0 con un bellissimo gol, tra l'altro, di Oda. Bellissimo. Mi è piaciuto. Dopo un contrasto, no? Un po' di picchiaduro diventa. Link, rango A. Eh, va bene. Però, se il giocatore mi diventa rango A, sì, sono ancora più contento, eh. Opla. Alcun altro? Op, op, op. Opla. 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 High speed shoot. Portiere come sta messa alla para. Ah. Però Link è ancora sul pallone. Non demorde. Non demorde. Control pass. Perché si è levato? Ah, deviata. Ah, perché l'ha deviata. Eh, mi stava venire un po' il dubbio, no? Dico, ma non è che qualcuno qui proprio ha programmato a... Dopo dice uno, ma... Ci sarà qualcosa che non va? No, perché non l'ho vista che l'hanno deviata. Eh. Mi da da pensare. Certe volte. Meno male che... Effettivamente l'hanno deviata. Non ho visto come, perché non si è visto. Però... Almeno... È qualcosa. Perlomeno. Allora, voglio vedere i gradi dei miei giocatori e poi concludiamo il video. Vorrei fare tipo una partita a video. Vabbè ragazzi, dribbling SS, ovvio. Più 50 punti. Perfetto. Gol segnati con... Vabbè, con la squadra A, ovviamente. Statistiche medie. Buono. Giocate critiche. Valutazione in... Oh, aumento indicatore zona B, tripla S. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Ah, 350 punti. Bene. Ah, avete perso. Non dovevo andare così. E' frustrante. Ehi, vai due. Come vanno le gambe? Tutto a posto. Ci siamo allenati parecchio dopo le nazionali. A presto. Magari la prossima volta ci incontreremo da rappresentanti del Giappone. Sì. Comunque sia la nostra combinazione rimane la migliore del Giappone. La Furano è arrivata fin qui giocando come una vera squadra. Già, non ho mai visto una squadra di Giappone. A giocare con tanto affiatamento. E' quasi soprannaturale. Hanno davvero una squadra spettacolare. Grazie. Come sono cari. Ad ogni modo, questo video termina qui ragazzi. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e Discord. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye. Bye. eeeh